Ed eccoci qui, buonasera a tutti, questo strano post partita è stata una bella serata, abbiamo seguito in diretta il successo del Milan per 3-1 sul Monza, è stata una partita molto strana, è stata una partita proprio dalle due facce. Abbiamo visto un Milan diverso nel secondo tempo, io come ho detto in diretta mi aspettavo una partenza un po' più ritmata, invece c'è stato un avvio un po' faticoso, un po' macchinoso, invece nel secondo tempo siamo andati molto più sciolti. Sono stati due Milan diversi per ruoli, per giocatori messi in certi ruoli e credo che questa sera Fonseca abbia di fatto provato le ultime cose in vista della partita di sabato. Abbiamo visto l'esorio di Morata, abbiamo visto l'esorio di Pavlovich, sicuramente due giocatori che saranno importanti per questa squadra, Morata ha voluto giocare anche se è arrivato praticamente da due giorni e questo sicuramente gli fa onore. Si è dato da fare all'inizio, poi è uscito un po' dalla partita, ma è chiaro che deve inserirsi all'interno dei meccanismi del Milan, non c'è dubbio a riguardo, non si poteva pretendere che questa sera potesse essere decisivo. È stata comunque una prestazione di voglia, fin tanto anche credo che la condizione fisica abbia retto per lui, che sappiamo è arrivato dopo per ragioni logiche legate all'europeo, il fatto che l'ha vinto e quindi è arrivato fino in fondo. Per quel che riguarda il Milan del primo tempo, naturalmente le considerazioni da fare sono considerazioni di natura tattica e di interpretazione del ruolo da parte dei giocatori. Siamo stati in alcuni momenti un po'... abbiamo alternato nel primo tempo una manovra un po' lenta, un pochino farraginosa, un pochino costretta rispetto agli avversari. Ha delle giocate interessanti, ad esempio se noi riusciamo a prendere ritmo e riusciamo a cambiare gioco spostando velocemente il pallone da destra a sinistra, si fa quella che tecnicamente si chiama disordinare la difesa avversaria, cioè portarla nella condizione di dover scivolare dal lato del pallone. È chiaro che siamo stati molto più dinamici sulla destra con Salemaker rispetto a sinistra con Leao che ha concluso in porta una volta, ma che in generale è stato costretto a fare un po' il lavoro che faceva con Pioli la scorsa stagione, quindi a provare a mettere dei cross che non li sono mai riusciti. Lì Fonseca dovrà lavorare su come esortare meglio Leao. È chiaro che abbiamo visto un primo tempo con Terracciano e con Leao e un secondo tempo con Okafor e con Teo. La composizione di quella fascia è diversa, chi è davanti gioca meglio se dietro a Teo ovviamente, ma non vuole essere una critica a Terracciano, ma è chiaro che parliamo di due giocatori su due livelli completamente diversi, quindi non può esserci storia a riguardo. Sicuramente ci saranno molte critiche nei confronti di Leao, già nei d'aspetto, soprattutto rispetto a quello che Okafor ha fatto vedere nel secondo tempo. È stato pimpante, è stato protagonista nel gol di Jovic, poi le altre giocate qualcuna bene, qualcuna meno bene, ma lì la partita stava andando verso la fine, quindi insomma diciamo che poi faceva anche un gran caldo e non sarebbe stato facile tenere quel ritmo adesso al 13 di agosto per tutto un tempo, quindi bisogna sempre fare un po' la tara su quello che è il momento all'interno della stagione, non è un momento ancora di preparazione tutto sommato, anche se tra quattro giorni siamo in campo col Torino, quindi dobbiamo chiudere adesso il capitolo esperimenti e dobbiamo anche consegnarci a una certezza secondo me, e cioè che il centrocampo del primo tempo non è assolutamente proponibile. Io mi auguro, come detto altre volte, che Fonseca possa fare un lavoro estremamente raffinato, ad esempio su Musa, per trasformarlo in un giocatore che può giocare in quella zona, al momento ancora non ci siamo, nettamente, credo che l'abbiate visto tutti insomma, e non vuole essere una critica al giocatore, è sempre il solito discorso, non si fa una critica a Musa, si fa una critica a Musa utilizzato in quel ruolo, e quindi qui c'è da capire poi se effettivamente questa è una scelta di necessità o una volontà dell'allenatore di provare a fare qualcosa con questo ragazzo, per cercare di definirlo in un ruolo. La prova di questa sera sua e anche la prova di Adli non sono state confortanti per quel che riguarda le letture difensive, ci siamo fatti trovare nel primo tempo spesso, almeno in tre circostanze, con i soliti problemi, con i soliti problemi dell'anno scorso, che sono problemi che sono stati attutiti nel secondo tempo, con l'ingresso di benassere e di rendersi, una partita che è girata in un altro modo, perché di fatto noi abbiamo preso il sopravvento, col ritmo, con la tecnica, il Monza si è ritirato e ha rinunciato di fatto ad attaccare fino al finale di partita, dove Torriani comunque ha messo alcune parate che lo rendono ancora una volta uno dei giovani più interessanti del nostro vivaio, Yves incluso naturalmente il grandissimo Liberali che anche questa sera ci ha deliziato con un paio di giocate molto gustose. Dicevamo che nel primo tempo Saramaker è molto attivo, è lui che ha creato la superiorità numerica in tante circostanze, un Loftus secondo me che ci mette impegno, ma in quella posizione di campo perde proprio consistenza all'interno della partita. Speriamo di non vederlo tante volte lì, speriamo di vederlo più in un qualcosa che si conformi, lo dico qua oggi, in un qualcosa che si conformi più come un 4-3-3, perché continuiamo ad avere questo grosso equivoco del fatto che noi abbiamo una squadra, una rosa, che è costruita più per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1, ma continuiamo a giocare con il 4-2-3-1. Io do naturalmente il massimo credito al nostro allenatore, sono sicuro che se vuole percorrere questa strada e perché ritiene giustamente di poterlo fare, è lui l'allenatore del Milan, ci dobbiamo fidare di lui, ma quello che abbiamo visto nel primo tempo è un Milan che in alcuni momenti ha ricordato terribilmente quello della scorsa stagione e questo noi non vogliamo vederlo. Quindi la prova di questa sera è stata una prova bene a metà, ma è stata una prova, secondo me, proprio utile a far capire cosa si può fare e cosa no. Ecco, perché verranno partite vere, verranno partite più difficili rispetto all'avversario di questa sera e quindi è necessario mettere in campo la massima cautela rispetto a presentarsi con un certo centrocampo. Secondo me è benassera imprescindibile per questa squadra, imprescindibile. ha dimostrato anche questa sera di essere quello meglio per quel che riguarda tutte le varie gestioni delle fasi della partita in quella zona di campo. Reinders ha fatto un grande gol e quindi quali risposte abbiamo ricevuto questa sera? Quello che vi dicevo, il fatto che ci sarà molto da lavorare per toglierci se sarà possibile farlo, perché poi dipenderà molto dalla bravura del nostro allenatore e dall'applicazione dei giocatori rispetto a quelle che sono le sue richieste di toglierci, ecco, quella mentalità dell'anno scorso, quella terribile sensazione di poterci far fare male ad ogni contropiede. Questa è una cosa che abbiamo limitato nel momento in cui abbiamo cercato di fare il possesso palla perché ovvio è una questione proprio molto basica cioè la palla ce l'hai tu, non ce l'hanno gli altri quindi è difficile che ti possano far male ma nel momento in cui la perdiamo pure a centrocampo non vinciamo dei duelli che dovrebbero essere vinti per via del fatto che giochiamo con giocatori non adatti in quel ruolo ecco che rischiamo ancora di ricadere, ripiombare nella tristezza della scorsa stagione dei tanti colpresi, eccetera, eccetera. Quindi di ci sarà molto da lavorare ci sarà molto da lavorare non c'è da lavorare nella fase offensiva per meglio dire, adesso lo specifico c'è da lavorare anche lì ma lì sappiamo che il potenziale c'è non è mai stato un problema l'attacco per il Milan il fatto è che riuscire a coniugare le due fasi in questa squadra sarà molto difficile e allora anche qui è chiaro che l'assenza di Pulisic ci ha privato purtroppo questa sera della possibilità di sperimentare un attacco, diciamo, dinamico e abbastanza equilibrato con Salemaker a destra oppure dinamico e particolarmente aggressivo quando nel secondo tempo è tratto su Poese che non ha fatto una grande partita però ci sta, insomma, ci sta e qui proprio più che la valutazione sui singoli secondo me è interessante la valutazione sul complessivo di squadra e quindi la risposta che abbiamo avuto questa sera è che, attenzione, secondo me il percorso per arrivare al Milan di Fonseca è un percorso ancora un po' lungo è giusto che il mister ci lavori è giusto che si continui a percorrere questa strada perché lui è irresponsabile e lui deve dare l'identità sua al Milan e io mi permetto di dire che dobbiamo stare con lui perché io credo che Fonseca possa essere una risorsa per il Milan che comunque si meriti la nostra stima e la nostra anche in un certo senso pazienza però dobbiamo metterci in testa questa cosa e deve essere ben chiara c'è bisogno di tempo per sistemare tutte le cose c'è bisogno del mercato ma c'è bisogno anche di tempo per sistemare tutti quei dettagli che poi alla fine nelle partite che contano rischiano di pesare molto poi vedremo come si inserirà Pavlovich naturalmente che ha già mostrato questa sera alcune delle sue caratteristiche come la presenza l'aggressività anche su di lui così come sul reparto difensivo in generale ho già letto tante critiche non mi sento di abbracciarle pienamente perché ripeto si sta lavorando si sta lavorando ma per farlo bene dal mio punto di vista è necessario togliersi sgombrare la testa da quelle che possono essere le indicazioni dell'anno scorso quindi togliersi dalla mente certe linee di difesa molto alte certe situazioni molto pericolose che possono anche pensate questa sera ovviamente il risultato contava solo per la soddisfazione di celebrare un grande presidente della storia del Milan ma partite così dove ti porti anche in vantaggio di due gol se certe situazioni difensive in fase di non possesso sono fatte male rischi anche di andare incontro alla riapertura della partita e in gare ufficiali questo può essere molto pericoloso quindi per non ricadere lì bisogna continuare a lavorare bisogna continuare a fare bene le cose e ad essere convinti della strada che si sta percorrendo io continuo a insistere dicendo che secondo me dal mercato dovrebbe arrivare qualche cosa più di qualche cosa per sistemare e dare una conformazione molto più seria a questa squadra però se così non sarà ci affideremo al mestiere all'esperienza di Paolo Fonseca sperando che possa essere sufficiente per una stagione che ci possa regalare delle soddisfazioni perché alla fine è quello che vogliamo tutti perché abbiamo esultato questa sera e esulteremo come sempre quando il nostro mira insegnerà grazie a tutti aspetto i vostri commenti naturalmente grazie a tutti